Buongiorno Marco, venite qui tu e il tuo cane, il mio ombrello è abbastanza grande per coprirci tutti e tre. Senza neppure accorgermi sono entrato nel parco di Monza, sono già all'inizio del viale dei tigli ed è la signora con i capelli bianchi che mi rivolge la parola in modo affettuoso. Marco, tieni questi fazzoletti, asciugati quelle enormi gocce di pioggia che si sono depositate sotto i tuoi occhi. Sai, tante volte le cose non vanno come vorremmo ed è difficile fare i conti con la realtà. Io mi chiamo Lydia, piacere di conoscerti. Prendo i fazzoletti dalle sue mani che sono piccole e morbide come i panini bianchi che solo i migliori fornai sanno impastare e mi ci asciugò gli occhi. Intanto Zampa si è scrollato ben bene alla maniera dei cani e ci ha spruzzato completamente arrivando a bagnare la faccia di Lydia che esclama, perbacco ma piove anche sotto l'ombrello. Così sul mio volto compare finalmente un sorriso. Che bella la tua bici, è proprio una bomba. Sai, anche io alla tua età amavo andare in bicicletta, ma quella che avevo quando andavo a scuola era una carretta. Non aveva freni, non aveva i fanali, aveva i copertoni consumati. Poi qualche anno dopo me ne hanno regalata una nuova, bellissima. Non so dove l'avessero presa, ma l'importante è che con quella bici, che era una delle prime che avevano i cambi, clic, mettevo il rapporto giusto e andavo in salita che era una meraviglia. Mi sembrava quasi di avere le ali e piedi. Soprattutto quando dovevo fare tragitti molto lunghi, ad esempio da Novara a Milano, dopo che avevano fatto saltare il ponte sul Ticino e il treno non passava più. Allora mi facevo trainare attaccandomi ai camion. Allora si usava farlo, anche se era proibito perché era molto pericoloso. C'era una tecnica che dovevi usare. Bisognava stare attenti perché appena il camion frenava, zac, dovevi lasciare la presa, altrimenti rischiavi di prenderti una bella capocciata e di finire per terra. Io rimango a bocca aperta nel sentire i racconti di questa signora, che sembra aver avuto una vita molto avventurosa, e le chiedo timidamente, ma Lidia, chi gliel'ha regalata la bicicletta nuova? I suoi genitori? No, i miei genitori non potevano permetterselo. Me l'hanno regalata, dopo averla probabilmente requisita a qualche fascista, i miei compagni, i partigiani, perché io, ai miei tempi, ho partecipato alla resistenza. Ero una staffetta partigiana. La resistenza? Staffetta partigiana. La mia ricerca! Così, quando tutto sembrava andare a rotoli, qualcuno accende un fiammifero e si vede una luce, là, in fondo al tunnel.